rieccoci buongiorno carissimi amici stiamo facendo i video promessi con i con questi consigli un po più in dettaglio di cosa si può fare per proteggersi per diminuire l'elettrosmog in questo video vi parliamo sempre di questi principi dei 5a in particolare amici e attitudine mentale prego roberto perfetto grazie mille dunque attitudine mentale appunto e amici cos'è cambiato esattamente nel mio caso è molto semplice quando si arriva quando si soffre appunto giustamente di queste problematiche cioè di questo forte disequilibrio fisico possiamo chiamare intolleranza le onde elettromagnetiche possiamo chiamare elettrosensibilità possiamo chiamare la depressione possiamo chiamare in mille modi ma sicuramente non hai voglia né di fare attività fisica né di uscire né di fare niente insomma la cosa migliore è stare a casa non vuoi vedere nessuno ed è un ciclo un ciclo vizioso no perché effettivamente da solo non ne esci ecco che la cosa migliore è fare almeno nel mio caso ho fatto esattamente l'opposto ovvero non ne ho voglia di uscire non ne ho voglia di fare niente e mi son detto e ho capito che tutto quello che decidevo di fare non funzionava detto questo come ingegnere mi son detto bom se non funziona in questo modo devo fare il contrario e da lì mi sono imposto auto imposto di dire sì ogni volta che magari il mio cervello mi diceva no perfetto dunque attitudine mentale ok ho cercato di essere positivo anche quando effettivamente non stavo bene ciao robbie come stai da dio ok oggi sto da dio ovviamente non era vero ma cercavo di di essere al di sopra appunto di questa cosa di poterne e volerne uscire fuori ecco che facendo così proprio anche l'energia interna è cambiata gli amici mi hanno aiutato in questo perché ho fatto cose che ho dato loro ragione ok un amico un vero amico quando ti chiede di uscire o di poterti aiutare fondamentalmente lo fa lo fa col cuore aperto lo fa con davvero non vuole di aiutarti ecco che anche se la mia risposta era inizialmente no ho detto sì ok sì andiamo a torturarci a fare un viaggio di un'ora nei boschi con una salita così per stare meglio e ho spettato sangue nel caso specifico ma poi piano piano sono sono stato meglio dopo questa passeggiata di un'ora mi sono trovato ad abbracciare un albero così in modo molto spontaneo e mi sono proprio addormentato talmente rosaurito da tutta questa situazione ma mi ha fatto bene mi ha fatto bene perché mi ha ricollegato con la natura dunque è proprio questo tipo di energia che ho di nuovo bisogno mi sono trovato a fare yoga a riazzino in una serata dove praticamente pioveva catinelle dove nessuno sarebbe uscito a fare yoga nel mio stato eppure mi ha fatto bene dunque ho fatto delle scelte diverse perché questo perché le scelte che il mio cervello mi dava non funzionavano dunque quello che mi ha aiutato per farla breve è proprio il cambio dell'attitudine mentale ok lo metto in posto ma in correlazione poi con gli amici perché i veri amici non parlo degli amici digitali parlo proprio di quegli amici che ti conoscono quei pochi amici di lunga data che vogliono aiutarti ok vogliono che tu esci da questa situazione vogliono che capiscono che tu sei non sei te stesso e te lo dicono dunque mi ha aiutato già il fatto di sentirmi dire Roby tu stai di M adesso devi fare qualcosa ok e il fatto di poter dire sì ok va bene hai ragione perché in quelle situazioni non accetti i consigli non hai voglia di fare niente non accetti i consigli ecco che fare esattamente quanto un amico ti chiede è perché lo fa per il tuo bene mi ha salvato mi ha aiutato ecco dunque ascoltate i vostri amici e per quanto potete potete cambiare appunto l'attitudine mentale dunque positiva questo cambierà voi stessi e attorno a voi ecco e questo è anche un grande segreto trovo per quando avete degli amici che non stanno bene potete ricordarvi proprio di questo e motivarli essere allora questi buoni amici di cui hanno bisogno magari per uscire da questa situazione perché può essere veramente una cosa centrale che una persona che sta in che in questo stato che non ha la forza che viene motivato da qualcuno che ha qualcuno da parte che non lo molla che non dice subito ah no tu sei un caso disperato lui non sta mai bene no ma che proprio è lì e dice dai vieni su datti una mossa datti prendi coraggio cosa puoi quindi siete anche voi avete la possibilità di essere tali amici per qualcun altro e questo è come dire questo cioè il benessere poi si propaga nel senso che se tu fai del bene a qualcuno poi ti torna indietro è tra virgolette contagioso dunque il fatto di ecco magari non di aiutare a parole ma a fatti cambia ti può cambiare la vita dunque aiutare degli amici proprio nel loro bisogno nel loro vero bisogno nel vero modo beh aiuta te e aiuta anche loro e quello che mi ha davvero anche aiutato dopo era proprio il fatto di poter aiutare gli altri cioè io più aiutavo gli altri nell'ambito dell'elettro smog più facevo le misurazioni più davo loro dei consigli meglio stavo quindi ha come aiuto ha come aiuto ha come aiuto dunque anche il fatto di condividere appunto queste mie esperienze che proprio ho vissuto sulla mia pelle mi aiutava a uno a non pensare ai miei problemi ma dunque di focalizzare veramente sul problema degli altri che aveva magari una causa simile ma mi esternavo dal mio problema dunque diventavo quasi l'attore o regista e potendo aiutare gli altri dunque questo mi ha aiutato mi ha aiutato molto e a tal punto che oggi ho cambiato lavoro già da due anni non mi sto occupando effettivamente di elettrobiologia dunque dell'impatto di campi elettromagnetici sulle persone ecco questo questo è un magari un consiglio può sembrare banale può sembrare ovvio ma quando questo consiglio si trasforma effettivamente infatti ecco che scaturisce qualcosa di magnifico dunque sì e questo è stato uno dei modi in cui ho potuto salvarmi ecco dunque mi sento di condividere questo appunto con le persone che ci seguono per il loro per la loro vita e il loro sviluppo ecco ecco questo era il video su sui punti attitudine mentale e amici rimanete sintonizzati perché nel prossimo video parleremo dell'alimentazione a presto ciao